Musica Aziende sequestrate alla mafia, maggiore intesa fra sindacati, agenzie e tribunale Niente soldi per la Sicilia nella prima stesura della legge di stabilità nazionale Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la tassa sui servizi indivisibili relativi all'anno 2015 Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è venerdì 16 ottobre Un'intesa più stretta tra sindacati, agenzia dei beni confiscati, tribunale misure di prevenzione e amministratori giudiziari per gestire meglio i beni sequestrati alla mafia La richiesta è emersa nel corso dell'ultima riunione del coordinamento sulle aziende confiscate che si è svolta alla CGL di Palermo Nuove strategie con cui gestire i patrimoni sequestrati alla mafia dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ed il giudice Silvana Saguto Se ne è parlato nel corso di una riunione del coordinamento sulle aziende confiscate che si è svolta alla CGL di Palermo L'idea è quella di dare vita a rapporti più organici e stretti tra sindacati, agenzia dei beni confiscati tribunale, misure di prevenzione e amministratori giudiziari per intervenire già dal primo giorno del sequestro di un'azienda ed elaborare un piano industriale che salvaguardi l'attività produttiva e l'occupazione La CGL ha chiesto inoltre l'applicazione di modelli gestionali che superino i limiti e gli errori di un passato condizionato da una visione troppo burocratica e poco imprenditoriale Rivendicando un'esperienza ormai decennale nei sequestri seguiti il sindacato ha dunque proposto la sua collaborazione come punto di riferimento nell'elaborazione tecnica per evitare che con la confisca definitiva, come accade nel 90% dei casi, le aziende chiudano L'obiettivo è far sì che le quasi 400 aziende sequestrate a Palermo restino in attività Dopo aver superato i costi della legalità, la messa in regola dei dipendenti, l'evasione contributiva, i permessi sanitari il passaggio alla confisca per le aziende che ci arrivano è il più delicato Adesso CGL, Cisle, Will ed altri soggetti stanno lavorando ad un protocollo da sottoporre al Tribunale di Palermo e programmando iniziative comuni con le associazioni come è accaduto per il sitino di sostegno a Gelatoina, Bagheria L'idea del sindacato è di coinvolgere nel coordinamento anche le RSU delle aziende E' stata riaperta la statale Palermo Agrigento tra il chilometro 222 e 229 chiusa da ieri sera per una frana nel territorio di Villafrati Gli operai dell'ANAS hanno lavorato tutta la notte per liberare dal fango la strada chiusa dall'ercala Fridia a Tumarrano Per ripristinare la viabilità sono state impiegate pale meccaniche e mezzi per rimuovere dall'asfalto fango e detriti caduti dalla montagna sulla sede stradale Niente soldi per la Sicilia nella prima stesura della legge di stabilità nazionale Nella prima versione ufficiale della legge di stabilità nazionale non esiste alcun finanziamento destinato alla Sicilia Nonostante la regione trattasse da mesi per strappare almeno 1 miliardo e 400 milioni Somme che ora il governo regionale sarà costretto a recuperare attraverso nuovi tagli Il presidente Crocetta deve fare i conti con un buco stimato nel bilancio 2016 di 2 miliardi L'assessore all'economia Alessandro Baccei aveva prospettato la possibilità di coprire autonomamente una parte del buco pari a 600 milioni Il resto si sperava potesse arrivare da trasferimenti statali frutto di una nuova regolamentazione dei rapporti fiscali tra Roma e Palermo Quello che trapela dalla capitale è un giudizio negativo sulla credibilità del governo regionale Che peraltro si evince dalla pioggia di impugnative e commissariamenti di questi giorni I renziani sono sempre convinti che serva un passaggio politico E cioè la fine della legislatura e le elezioni in maggio o giugno dell'anno prossimo Insieme alle amministrative di grandi città italiane Ma i deputati all'Ars e le segreterie dei partiti resistono contro questa idea Con un atto del presidente Ardizione L'Ars si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro 13 deputati ed ex deputati Accusati di aver fatto spese pazze con i fondi pubblici destinati ai partiti L'Ars si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro 13 deputati ed ex deputati Accusati di aver fatto spese pazze con i fondi pubblici destinati ai partiti L'udienza davanti al gruppo è fissata per il 28 ottobre Il processo alle porte è per gli ex capi gruppo Accusati di peculato, Giulia Damo, Gian Battista Bufardeci, Nunzio Cappadona, Marianna Caronia, Nicola D'Agostino, Cateno De Luca, Cataldo Fiorenza, Innocenzo Leontini, Rudy Maira, Livio Marrocco, Francesco Musotto, Salvo Pogliese e Paolo Ruggirello La decisione non è stata presa al Consiglio di Presidenza, all'organismo di Vertice e l'Ars in cui vengono prese le decisioni amministrative All'ordine del giorno il presidente Giovanni Ardizzone aveva fatto mettere una delibera Con cui appunto si prevedeva la costituzione di parte civile dell'Ars contro i 13 politici Ma la riunione è andata praticamente deserta Erano presenti solo in 5 deputati su 10 Per arginare quello che poteva sembrare un boicottaggio Il presidente Ardizzone ha deciso di passare la decisione sulla costituzione di parte civile Come un atto al presidente, senza bisogno quindi di un voto formale in Consiglio di Presidenza Gino Sanmarco, segretario regionale della Wilka Sicilia Ed Enrico Pellegrino, responsabile sindacale Wilka di Riscossione Sicilia Hanno chiesto un incontro urgente insieme agli altri sindacati Al presidente della seconda commissione legislativa dell'Ars Le recenti notizie apparse sulla stampa, sull'aggravarsi e le condizioni economico-gestionali Di riscossione Sicilia e S.P.A. Malgrado lo straordinario impegno profuso dai lavoratori, dai dirigenti e dal nuovo C.D.A. Schivono Sanmarco e Pellegrino Ci preoccupano per le ricadute occupazionali che ne potrebbero derivare Chiediamo che all'audizione partecipi anche l'assessore Baccei C.D.A. di Riscossione Sicilia Per conoscere quali siano i loro reali intendimenti sul futuro della società Mentre a livello nazionale ancora in discussione l'abolizione della tasse Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la tassa sui servizi indivisibili Relativi all'anno 2015 Riducendo le spese ma confermando la liquida dell'anno precedente Mentre a livello nazionale in discussione l'abolizione della tasse Il Consiglio Comunale di Palermo con il voto contrario delle opposizioni Ha approvato la tassa sui servizi indivisibili relativi all'anno 2015 Riducendo le spese ma confermando la liquida del 21,30% dell'anno precedente In particolare sono considerati i servizi indivisibili L'illuminazione stradale pubblica, la pubblica sicurezza e la vigilanza I servizi cimiteriali, la manutenzione delle strade e del verde I servizi socioassistenziali, protezione civile, tutela degli edifici E tutela del patrimonio artistico per complessivi 101,5 milioni di euro Che vengono coperti in parte con queste tasse e in parte con altre entrate Hanno votato contro Forza Italia e PD Una decisione che sta facendo storcere il naso a molti Per prima Nadia Spallitta, vicepresidente vicaria del Comune di Palermo Non è ben chiaro, spiega la Spallitta, se il contenimento sia determinato Da una virtuosa riduzione della spesa o degli stessi servizi Anche perché è totalmente sprovvisto di ogni allegato Che consenta di riscontrare le voci di spesa delle varie tipologie di servizi indivisibili E i loro dettagli Ma altresì di verificare nel complesso le modalità di copertura di questi costi Inoltre, sempre secondo la Spallitta, la proposta appare anomala Perché arriva a fine anno e dovrebbe riguardare l'esercizio 2015 Collegato ad un bilancio di previsione che non è stato ancora proposto all'Aula E tra l'altro la stessa implica che i cittadini continueranno a versare gli stessi importi Essendo rimasta invariata l'aliquota Cosicché se nel 2014 la copertura dei costi era pari a circa il 19% Nel 2015 aumenterà la copertura dei costi fino al 21% La proposta suscita dunque molte perplessità Un gruppo di 18 famiglie che un anno e mezzo fa aveva occupato le case abbandonate del villaggio degli anziani In via Castellana Protesta davanti alla cattedrale di Palermo contro l'Opera Pia Cardinale Ruffini Che le minaccia di sfrattarle per dare spazio ai propri progetti A denunciarle il comitato lotta per la casa Che sollecita ancora una volta il Cardinale Romeo, presidente dell'Opera Pia A trovare con il comune, che tra l'altro si è fatto mediatore con la prefettura Una possibile soluzione per evitare che le 18 famiglie siano gettate in strada Senza nessun'altra alternativa Nella Facoltà Palermitana di Medicina si continua ancora con le lezioni in streaming E gli studenti scrivono al ministro Giannini È stata inoltrata ieri l'interrogazione preparata dagli studenti E presentata durante l'adunanza del XVI Consiglio Nazionale degli studenti universitari Ancora lezioni in videoconferenza per due canali di medicina e chirurgia di Palermo E scatta la protesta degli studenti universitari A mobilitarsi, rivolgendosi direttamente al Ministero dell'Università e della Ricerca Il rappresentante degli studenti al Senato Accademico dell'Università di Palermo Giuseppe Bonanno dell'Associazione Onda Universitaria E rappresentanti al Consiglio Nazionale degli studenti dell'Associazione Link Tra cui Caterina Chiocchetta della Commissione Didattica Al ministro Giannini ieri è stata inoltrata l'interrogazione preparata degli studenti Durante l'adunanza del XVI Consiglio Nazionale degli universitari Perché vogliamo portare all'attenzione del Ministero ciò che sta succedendo nella Scuola di Medicina di Palermo Dice Giuseppe Bonanno Nel documento gli universitari evidenziano tra le altre cose Come una lezione in streaming o in videoconferenza Non può essere considerata qualitativamente equivalente alla lezione tenuta di persone dai docenti Mancando il rapporto professore-studente Fondamentale nell'apprendimento, scrivono È una lesione per il diritto e lo studio imporre agli studenti di uno stesso corso Una tipologia di erogazione della didattica differenziata dagli altri Continua il braccio di ferro tra il comune di Santa Flavia e quello di Bageria Su chi abbia titolo sulla condotta dell'acqua Che pur attraversando il comune di Bageria serve storicamente il comune flavese Duro lo scontro tra i due sindaci Patrizio V e Salvatore Sanfilippo È attesa adesso un nuovo incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali e l'AMAP Per discutere le modalità di utilizzo della conduttura I termini sono questi Noi non siamo per far diventare eroe o martire il sindaco di Bageria Non lo vogliamo perché abbiamo un grande interesse Quello di ripristinare la verità e di non avere lesi gli interessi dei nostri cittadini Questa è una città che non è senza padre, non è orfana di nessuno Ne permettiamo a nessuno di far vedere muscoli che non ci preoccupano Con molta chiarezza se avessero saputo che prima del 2010 Bageria veniva alimentata con la sua rete cittadina Col suo anello e solo perché l'APS per poter economizzare i costi dei suoi dipendenti Mise una valvola inopinatamente in una condotta ma perché era il gestore unico Sia di Santa Flavia sia di Bageria Sarebbe stata la stessa cosa nell'ipotesi in cui la gestione diventava Permaneva unica dell'AMAP sia di Bageria sia di Santa Flavia Ma dal momento che Bageria ha scelto una via per i fatti suoi giusto o sbagliato Con la quale praticamente decide di staccarsi dall'AMAP E noi abbiamo il dovere di far ripristinare la verità E cioè significa che la condotta è al solo servizio della città di Bageria Quindi se qualcuno viene a casa mia per poter prelevare acqua in favore giustamente di alcuni cittadini Prima deve chiedere permesso, secondo deve avere un obbligatorio assenso Sia mio che dell'AMAP, mio significa del comune di Santa Flavia Questo invece lo si voleva ottenere con atti di tracotanza, di prepotenza Che non appartengono e non fanno onore a chi riveste istituzioni, cariche istituzionali L'anno scorso abbiamo dato in piena estate, cioè quando i cittadini flavesi ne avevano più bisogno Abbiamo fatto derivare acqua in favore di Bageria Oggi chiediamo la resa dei conti e cioè significa Per tutte quelle manovre fatte ci sono state delle rotture Che hanno comportato dei costi in favore di Bageria E cioè a carico dei cittadini flavesi Oggi la prima cosa che chiediamo al comune di Bageria è di regolarizzare i conti economici Perché viene facile a far vedere i muscoli senza contemporaneamente far vedere i conti da pagare Quindi la prima cosa che chiediamo è regolarizzare i conti precedenti Dopodiché non abbiamo mai negato l'acqua ai cittadini bagheresi Ma le dirò di più, questo fermo restando Che devono essere mantenuti gli stessi litri d'acqua in favore della città di Santa Flavia Sul tema dell'acqua contesa tra Bageria e Santa Flavia Interviene anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Bageria Marco Maggiore che invita il mondo politico ad abbassare i toni E soprattutto a non perdere di vista che la priorità al momento è quella di salvaguardare i cittadini Sull'acqua non si dovrebbero mai fare guerre Perché comunque è un diritto sacrosanto per la cittadinanza E quindi parlare di guerra dell'acqua è francamente qualcosa che non sta bene a chi fa politica La nostra posizione innanzitutto è quella di dare un servizio completo alla cittadinanza Ricordiamoci sempre che la manutenzione idrica non riguarda soltanto l'erogazione dell'acqua nelle abitazioni Ma anche la manutenzione delle reti fognarie e il depuratore E nei quattro mesi di gestione AMAP che ricordiamo tra l'altro è stata votata in consiglio comunale Soprattutto dal Movimento 5 Stelle E in merito alcuni partiti politici non si sono neppure espressi Mentre oggi sembra quasi che AMAP sia l'unica soluzione possibile Purtroppo sul depuratore e sulla gestione della rete vi sono state grossissime difficoltà Difficoltà che hanno spinto l'amministrazione a questa scelta Che è una scelta molto difficile ma anche irresponsabile In quanto si vuole dare un'impronta che sia duratura E che porti alla risoluzione di problemi che sono atavici Penso che chiaramente gli uffici comunali e l'amministrazione abbiano provato ad interloquire con Santa Flavia E aver dovuto alzare la voce evidentemente è stato dovuto al fatto che Quando metà della popolazione ha difficoltà nel ricevere acqua Un sindaco che è prima di tutto il primo cittadino Posso in qualche modo avere dei toni che per difendere la propria cittadinanza possono anche diventare aspri Ma in politica ciò che fa paura e ciò che ha fatto paura negli anni passati È stato molto più il silenzio di fronte a queste situazioni Perché il primo ad essere tutelato deve essere il cittadino E ripeto su queste questioni la politica dovrebbe davvero abbassare i toni ma a tutti i livelli Perché qualsiasi soluzione che è stata proposta da questa amministrazione in qualsiasi ambito Sembra sempre la soluzione sbagliata ma poi i fatti danno ragione a Patrizio Cinque L'abbiamo visto anche con la gestione dei rifiuti Quando finalmente dopo anni di servizi abbiamo una città che è vivibile E anche con l'acqua nel momento in cui la situazione si regolarizzerà Noi siamo certi che potremo garantire un servizio migliore Domani pomeriggio alle 18.30 a Palazzo Cuto a Bagheria sarà presentato il libro di Franco Latorre dal titolo Sulle ginocchia Partiremo dalla figura di Pio Latorre Ed è un momento in cui è necessario, opportuno rivedere appunto questa figura di politico, di sindacalista E anche di rappresentante delle istituzioni In un momento in cui la politica ha perso spesso il suo valore In un momento in cui assistiamo a movimenti populisti che ci circondano Penso che riprendere la figura di Pio Latorre Che ha dato, ha vissuto la politica, ha vissuto per le istituzioni sia importante Così come poi è importante anche per il suo impegno legato all'antimafia, legato ai beni confiscati Se pensiamo a tutto quello che sta succedendo in questo momento Sui beni confiscati e quindi sulle indagini che sono in corso di questa antimafia rivestita e parolaia Che poi sta producendo quello che stiamo vedendo tutti i giorni Penso che riflette su questa figura sia importante Così come l'opera e l'azione del sindacato Pio Latorre è stato alla Camera del Lavoro, è stato un alto funzionario della CGL Ecco, rivedere anche la funzione, il peso che può avere il sindacato nella politica e nelle azioni quotidiane Il libro sarà presentato a parte appunto dall'autore Franco Latorre, figlio di Pio Latorre Poi c'è la presenza di Franco Tornatore Che è stato un ex dirigente del Partito Comunista Ma è anche figlio di Peppino Tornatore Un alto rappresentante del PC qui a Bagheria Che ha fatto la storia insieme a tanti altri compagni della città E poi abbiamo chiesto anche l'intervento di Maria Concetta Balistreri Come funzionario della CGL Proprio per dare questo aspetto, questo taglio su Pio L'aspetto del sindacalista, l'aspetto del politico E anche di colui che è impegnato nell'antimafia Ha dato un segno importante nella lotta alla mafia Ismaele Lavardera, giornalista inviata del programma Open Space Domani incontrerà gli studenti e la scuola media dell'istituto comprensivo Monsignor Gagliano di Altavilla Milica E presenterà il suo libro Le piccole cose fanno la differenza, il silenzio e il dolo Il sindaco Nino Parisi dichiara Come istituzione comunale siamo onorati di ospitare Ismaele Che sta portando a livello nazionale un progetto straordinario Il mio comune ha voluto acquistare alcune copie del suo libro Per omaggiarle ai più piccoli Questo perché l'educazione alla legalità parte da testimonianze dirette In questo caso di giovani che parlano ad altri giovani Ed è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti